Salve a tutti gli amici di TechDifferent, ben ritrovati siamo qui con questo app USB, con 4 ingressi USB della AUK in alluminio andiamo subito a vedere la confezione, eccola qua, confezione ecologica come al solito qui andiamo ad aprire la scatola apriamo la confezione e troviamo subito l'app impacchettato, lo andiamo logicamente a spacchettare andiamo a togliere l'hub dal sacchettino eccolo qui, abbiamo i due gommini, eccolo qui abbiamo le quattro porte USB, questa è la porta USB laterale abbiamo anche una lucina, andiamo a vedere il resto del contenuto della confezione togliamo il vano e sotto troviamo il cavo maschio USB, USB ovviamente per connetterlo ad un qualsiasi PC e poi abbiamo il manuale eccolo qua, manuale di istruzioni che ovviamente è anche in italiano e abbiamo la card che ci permette di attivare la garanzia e qualora dovessimo rispedirlo compilare i dati inserendo i nostri dati e l'identificativo dell'acquisto ora procediamo a vederlo più da vicino benissimo, come detto in apertura vedete che è in alluminio abbiamo anche un led che ci indica quando è connesso a un PC un led blu abbiamo il lato destro con un tappo davvero ben lavorato in alluminio anch'esso, tappo fisso anche nell'alta estremità avremo un altro tappo fisso che contiene però l'ingresso USB per collegarlo al nostro PC vedete che le rifinitudine sono davvero eleganti vi ricordo che i quattro ingressi USB sono di tipo 3.0 quindi ad alta velocità nella parte inferiore abbiamo i gommini leggermente zigrinati che permettono davvero un notevole grip per quanto riguarda questo hub della AUK in alluminio è davvero tutto vi ringrazio per l'attenzione per la recensione completa e più dettagliata vi rimando ovviamente al nostro articolo scritto grazie ancora